Grazie. Grazie. Sembra una lotta 2, Murcarolo, Elpis, leggera punta di vantaggio per la canotiri Elpis agli ultimi 500 metri. Bello questo ultimo 400 metri, vediamo punta a punta fra la canotiri Elpis e il Murcarolo, lotta per il titolo di campione Ligure, aumenta il murcarolo, risponde Elpis, siamo agli ultimi 250 metri, aumenta ancora il Murcarolo che prende una punta di vantaggio, Elpis non ci sta e risponde, bello quest'arrivo. Correzione in direzione per il Murcarolo in questo momento, mezza barca di vantaggio per il Murcarolo che va a chiudere e si aggiudica il titolo sull'Elpis. Mezza imbarcazione di vantaggio per Castellotti e Fabio Perino Frisone. bella la lotta con l'Elpis, con Agosto, Lupis, Fabio e Protano. terza piazza per i San Piaglio Renesi, con evidente problema al numero 4, problemi di Tarrello, per Gissarelli, Ferrini, Manghisoni, Gagliotto, peccato perché ai 700 metri erano tutti affiancati. giudice, per cortesia un attimo qua sotto per comunicazioni del Presidente di giuria. andare alla puntina di premiazione per una comunicazione del Presidente, grazie. Sì, intanto abbiamo una lega navale italiana di Sestri Levanti, scusate il, la guardia rivoltri, che sta arrivando a chiudere il percorso con Alto Mani, Ponta, Biondi e Sibiera. roto di T休 Kayouchi, Areola. Grazie a tutti.